Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, giornata di mercoledì con ancora una zona di bassa pressione posizionata sull'Italia, l'anticiclone ancora stabile qui più ad ovest, dormiente sulla Spagna ma ci raggiungerà entro il fine settimana. Intanto mercoledì ancora di piovaschi sul nord-est, area alpina così come regioni centrali. Andiamo a vedere la prossima grafica perché ci conferma una giornata con ancora parecchie nubi su Lombardia e nord-est ma ha una gran variabilità anche al centro-sud Italia. I venti, attenzione, saranno tesi sul mar Tirreno e la Sardegna di maestrale, mari molto mossi o perfino agitato, molto agitato. Il mar di Sardegna è in sintesi l'ultima grafica, una giornata ancora a tratti di stabile, incerta sul nord-est e regioni centrali ma guardate anche il ridosso di rilievi montuosi del nord-ovest, insomma il tempo fatica a migliorare. Da giovedì man mano l'alta pressione ritornerà a interessare le nostre regioni. Temperature in flessione al nord, tagli maggiori su 3B Meteo.